abecedarius video 27 il latino di seconda oggi ci occupiamo di un argomento nuovo le proposizioni narrative esiste già un video della serie il prof in classe sul berga youtube cerchiamo con uno schema così comodamente da casa di comprendere come funzionino le cose dopodiché seguiranno altri video questa è una promessa non una minaccia ovviamente sull'esercitazione sulla pratica come è sempre proprio del canale berga youtube si insiste sempre sulla messa in opera più che sulla parte teorica siamo pronti e andiamo ad incominciare il cum narrativo sta per un gerundio o meglio sta per una proposizione subordinata che in italiano possa esprimere in modo implicito oppure posso anche esplicitare andiamo con ordine ripetendo innanzitutto il gerundio in italiano il primo esempio restando a casa gioco restando è un gerundio presente o un gerundio semplice serve ad esprimere un'azione contemporanea significa che il restare e il giocare avvengono contemporaneamente diversa è la situazione che si prospetta nella frase sotto avendo giocato esco avendo giocato non è giocando e quindi è un gerundio passato o gerundio composto l'azione del giocare si considera precedente all'azione dell'uscire mentre nel primo caso il gerundio presente esprime una contemporaneità nel secondo caso il gerundio passato esprime un'anteriorità ma facciamo un passo ulteriore in italiano avendo giocato a casa esco il gerundio come traduzione sta bene per quale ragione perché c'è identità del soggetto vale a dire il soggetto è identico cioè lo stesso nella frase subordinata e nella frase principale a giocare sono io e ad uscire sono io ma quando invece il gerundio è interessato ad un altro soggetto vale a dire a un soggetto differente da quello della proposizione in cui si trova la proposizione principale in questo caso il gerundio non va bene vediamo avendo tu giocato usciamo il gerundio non va bene perché sono due soggetti differenti a giocare sei tu e a uscire siamo noi si tratta dunque di esplicitare il gerundio e vediamo come allora qui c'è un acronimo del berga un suggerimento mio diretto che però è molto pratico per orientarsi nella traduzione in italiano del gerundio il gerundio infatti che è una forma implicita è un modo indefinito in italiano non ha le persone sta per una proposizione subordinata esplicita allora la prima cosa da fare è scegliere quale sia il valore del gerundio o meglio quale tipo di proposizione possa essere coinvolta per esempio giocando sto a casa potrebbe essere quando gioco sto a casa poiché gioco sto a casa se gioco sto a casa oppure sebbene giochi sto a casa allora tccc è l'acronimo di via di mia invenzione che però ti offre una chiave molto utile una nella cassetta delle attrezze del latino ti offre uno strumento utile per ricordarti i quattro valori in cui si può esplicitare un gerundio ma c'è un altro problema grosso una volta che giocando diventa mentre oppure poiché quindi scelgo il tipo di proposizione devo capire anche quale tempo dell'indicativo vada inserito correttamente e allora qui conta il discorso relativo alla consecutio temporum espressione che magari può far paura ma che in realtà altro non è che la conseguenza dei tempi vale a dire i tempi delle subordinate si regolano sempre così è in italiano e così lo facciamo spontaneamente quando parliamo nella nostra lingua e si regolano sempre sul tempo della principale restando a casa gioco allora gioco è un presente vale a dire è un tempo principale come potrebbe essere il presente oppure il futuro semplice pertanto il restando va espresso va con tradotto con un indicativo presente restando a casa diventa quando resto a casa gioco diverso è il discorso in cui nella proposizione principale ci sia un tempo storico e il gerundio presente debba essere esplicitato perché in questo caso secondo la regola della consecutio temporum il gerundio va esplicitato con un imperfetto quando restavo a casa giocai ecco dunque che i due tempi per esprimere la contemporaneità nelle proposizioni subordinate in tutte le proposizioni subordinate intendo sono il presente indipendenza da un tempo principale e l'imperfetto indipendenza da un tempo storico analogo discorso va affrontato con la stessa distinzione della dipendenza da tempi principali o da tempi storici per quanto riguarda il rapporto di anteriorità il caso in cui mi trovo ad avere nella frase subordinata un gerundio passato che devo tradurre diversamente a seconda che nella principale ci sia un presente un futuro un tempo principale oppure un tempo storico vale a dire un imperfetto un perfetto oppure un più che perfetto vediamo il primo esempio essendo rimasto a casa gioco è un'anteriorità rispetto a un tempo principale pertanto essendo rimasto viene reso con un passato prossimo poiché sono rimasto a casa gioco invece sotto nel secondo esempio essendo rimasto a casa nella principale non ho gioco ma ho giocai significa che questo gerundio esprime un'anteriorità indipendenza da un tempo storico in questo caso a colpo sicuro in italiano dovrò utilizzare un trapassato prossimo essendo rimasto a casa diventa poiché ero rimasto a casa giocai a questo punto possiamo vedere qualche esempio per chiarirci le idee cum abategnensibus expulsus esset nunquam alcibiades accaritate patrie recessit come sempre partiamo dall'identificazione dei predicati verbali expulsus esset e poi recessit expulsus esset è un più che perfetto passivo un congiuntivo più che perfetto eccolo qui il mio cum narrativo cum expulsus esset abategnensibus e a questo punto ho chiaro che questo cum expulsus esset sarà il mio cum narrativo cum expulsus esset abategnensibus complemento da gente e poi il soggetto sarà alcibiades alcibiades nunquam recessit predicato verbale auab vuole l'ablativo quindi qui ce l'abbiamo a caritate patrie il senso expello expellis expuli expulsum expellere e espellere come in italiano e invece recedere a caritate patrie significa allontanarsi dall'amore della patria o per la patria se vogliamo renderlo in modo in modo differente più più idoneo alla lingua italiana dunque in prima battuta adesso devo ragionare però sul cum narrativo e osservo ragiono sul tempo del cum vedo che cum expulsus esset e quindi ragiono sulla forma questo è un più che perfetto passivo quindi mi esprime un'azione anteriore e avevo visto sopra che per l'anteriorità devo considerare che nella traduzione implicita avrò un gerundio composto che sarà però passivo quindi cum expulsus correggo esset e sarà un gerundio composto passivo quindi uno più due essendo stato espulso se sei nuovo del berga youtube devi sapere che le forme passive di solito il mio suggerimento è di tradurle con uno essendo e poi expulsus stato espulsus per cui ad ecco dico uno più due allora la frase principale alcibiade non si allontanò mai dall'amore della patria non non dimentico mai l'amore della patria e questo essendo stato espulso ci sta perché in fondo ha sempre lo stesso soggetto più semplice si può anche rendere con il participio passato espulso dagli atenesi alcibiade non si allontana mai dall'amore della patria ma diversamente se volessi esplicitarlo dovrei considerare che essendo un'anteriorità nel passato ecco il dato che mi mancava un'anteriorità nel passato dovrò impiegare un trapassato prossimo in italiano quindi dopo che era stato espulso faccio un passaggio ulteriore considera che questo che è asset alla fine diventa un era quindi tengo lo stesso tempo del congiuntivo soltanto che lo passo all'indicativo dopo che era stato espulso vale anche la possibilità come traduzione implicita dopo essere stato espulso ecco questa è uno primo esempio vediamo in un altro euridice cum per pratum cum amicis ambularet mor su serpentis animam e flavit allora ambularet abbiamo un congiuntivo imperfetto e flavit lo mettiamo con un colore è differente perché il verbo principale il soggetto euridice quindi la mia frase minima ti orienta anche un po nella costruzione e che euridice e flavit predicato verbale e che cose flavit animam in questo caso è il complemento oggetto e flare animam vuol dire espirare e morire e morsus serpenti morsus morsus e il mio ablativo sarà un ablativo di causa e serpentis sarà un genitivo quindi il senso è che euridice morì a causa del morso di un serpente ora mi concentro sulla narrativa che è una proposizione secondaria in cui noto che c'è il mio cum che sono ben in grado ormai di identificare e poi c'è ambularet allora devo analizzare la forma verbale e provvedo subito mi sposto sotto così posso scrivere e il la prima considerazione che si tratta di un congiuntivo imperfetto quindi esprime una azione contemporanea e poi devo andare a vedere il tempo della reggente che è flavito un tempo storico quindi una contemporaneità nel passato a questo punto concludo che devo renderlo con un gerundio presente e quindi ambulare vuol dire camminare quindi camminando è la prima traduzione e se devo esplicitarlo qui ci sta e può stare anche implicito perché euridice camminando con gli amici per il prato fu anzi morì a causa del morso di un serpente ma se volessi esplicitarlo a questo punto posso scegliere per esempio il valore è temporale potrebbe essere un mentre e attenzione iniziamo un attimo a chiederci le idee questo ambularet come ci si comporta si tiene il tempo altra cosa altro suggerimento del del berga quello di conservare il tempo ma passare il verbo dal congiuntivo all'indicativo ed ecco dunque che qui questo camminan camminasse diventa camminava ecco la resa euridice mentre camminava sul prato per il prato con gli amici morì a causa del morso di un serpente cum prometeo signem ominibus donavisset mercurius ius suiovis è un deligavit ad saxum in monte caucaso allora il nostro donavisset come primo predicato verbale il secondo è deligavit che mettiamo con un colore è differente abbiamo dunque due frasi possiamo anche separarle cerco anche di variare un po la tecnica del di traduzione ma soprattutto dell'analisi per suggerirti varie strade possibili poi il tuo compito è quello di decidere quale sia la migliore il cum lo possiamo subito evidenziare questa è la mia frase narrativa e prometeus donavisset è il verbo della narrativa ignem ominibus parto con l'analisi del mio congiuntivo è un congiuntivo più che perfetto quindi esprime un azione anteriore e quindi significa che andrà reso con un gerundio passato e quindi non donando bensì avendo donato e il senso è avendo donato prometeo il fuoco agli uomini attenzione che se dovessimo lasciarla implicita viene sempre prima messo il predicato verbale lo mettiamo così e poi viene messo il soggetto al contrario di quello che si potrebbe comunemente pensare avendo donato prometeo oppure avendo prometeo donato il fuoco agli uomini andiamo alla principale mercurius che cosa fece deligavit chi deligavit eum dove ad saxum complemento di motta luogo in monte caucaso a questo punto è un complemento di stato in luogo e poi iussu iovis iussu è un ablativo e iovis è il genitivo di giove iupiteriovis allora mercurio lo legò ad una roccia sul monte caucaso per ordine di giove ora è chiaro che in questa situazione abbiamo un soggetto che prometeo ed un altro soggetto che invece è mercurius e essendo due soggetti differenti allora avendo prometeo donato va trasformata in una forma esplicita e come mi regolo mi regolo secondo lo schema di prima e oppure secondo cui se siamo in dipendenza da un tempo storico devo utilizzare un trapassato prossimo oppure ti do una mossa molto più semplice se donavisset è un più che perfetto congiuntivo allora lo trasformiamo in un più che perfetto indicativo vale a dire si tiene il tempo come fanno i ballerini e avrò in italiano un trapassato prossimo e allora viene e poiché o dopo che prometeo aveva donato il fuoco agli uomini mercurio lo legò ad una roccia sul monte caucaso per ordine di giove ecco questo era abecedarius per una prima parte di spiegazione una seconda parte di esemplificazione in cui si insiste sulla traduzione in particolare delle narrative ma anche sul metodo di approccio ai testi se la cosa ti è perso opportuna puoi lasciare benissimo un commento se non l'hai ancora fatto iscriviti pure al canale mi fa piacere e intanto buon lavoro e corro subito per registrare il video 28 dedicato agli esercizi sulle narrative buon lavoro